Che è successo? O su Facebook? Un video? Un video? Allora, Pettino, praticamente ho filmo nell'animo, perché Arianna per... Arianna? Ha trovato il capello? Si è azzardata a prenderlo come Lilo. Ma io non so che sono questi personaggi. E allora perché ero un bucaccio? No, ma spiegolo alla camera! Cosa devo spiegare? Infatti era un binocchio per l'ultimo, e io non so più affegno. Scusa, ma... Eh? Ahahahaha... Perché? Scusa, spiega! Perché ti può spiegare? Che in quel giorno sono arrivati 90.000 e ancora non ho cancellato tutto tutto. Perché tu c'era il risultato stesso per ora. E devi essere taccato di tutto. Ma perché non ti fai un computer nuovo? Pertutto. Perché la giorni fa quanto? E perchè va lento il computer tuo? Perchè io stavo facendo un nuovo, da quanto sti va l'anno? E sta va lento! Ma ti sei accanto per l'anno il computer che è va lento! E' un po' di pazienza, ma è finito, sto facendo un po' vento! Invece tu che cosa pensi? Lufi e Lufi Ah sai, apposito! Ho parlato nel mio film in inglese? No, veramente! Chiedi a Lufi? Eh, mi fate vedere? Sì, ne lo può dire! Eeeeh, mi fate vedere... Come sto a parlare inglese! Tanto lo schiaffo in me caso! No, mi fai dire che c'è mai un schiaffo veramente che sto a postare in questo... Ahahahahahahahahahah Io ti ho pasta! Pasta! Ok ciao, ciao! Paola!